Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. L'amministratore delegato di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi pronto per una nuova grande sfida. Continuate a leggere per scoprire di cosa si tratta. Il termine della stagione autunnale. Oltre a rimandare i lavori a settembre. Porta con sé anche una linea per tracciare un bilancio per come sono andate le cose. Tra trasmissioni top e altri flop. Mediaset si è confermata essere inattivo e con programmi che permettono anche un incremento importante negli spazi pubblicitari. Del resto essendo una televisione commerciale. Visto che non viene pagato un canone. Per la rete che vede Pier Silvio Berlusconi come amministratore delegato. È tempo di calare gli assi per la stagione estiva. Ecco cosa è stato pensato per il pubblico italiano che resterà a casa. Il nuovo palinsesto estivo. Nonostante la fine della stagione autunnale. L'arrivo dell'estate non significa mandare in onda solo repliche o programmi di scarso interesse. Da qualche anno infatti. Portate a termine le trasmissioni televisive. Come nel caso di Uomini e Donne o i reality show di turno. Canale 5 è diventata il canale di riferimento delle SOP. A partire da quelle americane. Due sono i paesi che detengono il primato. Anche in termini di ascolti. La Spagna e la Turchia. Quest'anno. Visto il grande successo. È stata applicata la stessa scelta. Optando per due serie che inizieranno a breve. La scommessa di Pier Silvio Berlusconi. La rete dà sempre attenta a ciò che accade negli altri paesi del mondo. Quest'anno ha voluto puntare. La fascia pomeridiana con una serie spagnola intitolata La Promessa. Un prodotto che in questo periodo. Sta registrando dei risultati straordinari. La serie attualmente in onda in Spagna. Sta raccogliendo consensi in ogni angolo della terra. Come riportato a metà pagina. Nella puntata andata in onda ieri. La promessa è stata eseguita da quasi uno. Due milioni di spettatori con una media di 12,20% di share. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.